Concentriamoci su quello che è accaduto in Emilia Romagna, terra dove è stata trovata per la prima volta, terra dove appunto le produzioni soprattutto di frutta sono cruciali sia a livello del paese che a livello di export per l'Europa e quindi da quando è stata trovata è subito partito appunto un insieme di studi, queste sono le aziende che abbiamo monitorato, il lavoro che vi faccio vedere e queste erano le zone dove era stata trovata al momento in cui abbiamo iniziato il monitoraggio. È stata quindi diciamo così attuata questa task force che ha coinvolto Unimore e appunto gli enti del territorio, ovviamente il servizio fitosanitario, i consorsi fitosanitari appunto delle province. Inizialmente il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e successivamente abbiamo avuto questo progetto appunto PSR coordinato dal CRPV dove ovviamente vengono portati avanti studi e indagini atti appunto a approfondire la biologia, approfondire le tecniche di monitoraggio e anche relative appunto a capire anche quali sono gli antagonisti, le potenzialità degli antagonisti naturali e a capire appunto anche come fare per una gestione integrata, varie tecniche. Questo progetto è stato presentato e lo trovate su questo articolo dell'informatore agrario, quindi se siete interessati potete vederlo. E veniamo nella fattispecie al monitoraggio, monitoraggio di tre anni, 2014-2016, su aziende che presentavano questa conformazione per cui il campo, abbiamo usato ovviamente pero perché nelle nostre parti c'è pero, il campo, abbiamo monitorato il centro del frutteto, il bordo del frutteto, la zona di siepe e appunto la situazione era quella in cui c'era una vicinanza di non più di 20 metri da un edificio e abbiamo monitorato anche le zone erbose adiacenti. Sono state attuate diverse tecniche però quella che vi faccio vedere, i dati che abbiamo appunto analizzato, sono relativi soprattutto al visivo e allo sfalcio. Il lavoro è stato presentato, lo trovate sia qua come poster, è stato oggetto di questa pubblicazione sull'informatore agrario ma la pubblicazione dove trovate proprio tutto, la trovate in quel famoso numero speciale, questa qui su Journal of Pest Science, quindi qui trovate proprio tutto, qui trovate cose parziali in ognuno. E quindi qui, questa è la figura tratta dall'informatore agrario dove vi fa vedere come, intanto qual era lo scopo di questo monitoraggio, vedere nei nostri frutteti e nelle zone adiacenti dove sono le cimici asiatiche ma anche altre terotte perché praticamente non si sapeva, il tipo di danno che fanno è praticamente simile, dovevamo capire proprio qual era il loro apporto. Bene, abbiamo scoperto, questo è il periodo iniziale di monitoraggio, quindi grosso modo fino a fine giugno, questo è grosso modo luglio e questa è la parte finale agosto-settembre, qua sono rappresentate le aree erbose, le siepi, bordo frutteto e centro frutteto, la cimice asiatica è rappresentata appunto come ninfe in giallo e come adulti in rosso, quelli in blu sono i miridi, vedete i miridi li trovate prevalentemente nell'area erbose dove non c'è praticamente aleomorfa, dove sta l'aleomorfa concentrata soprattutto appunto nelle aree arbustive ed erbose di siepi ma soprattutto in bordo frutteto. Questo appunto sempre fa parte di questo lavoro, qui vedete l'andamento nei diversi anni di ninfe e adulti, quello che notiamo è come il boom c'è stato nel 2015 e fra un po' vedremo anche il motivo e quello che abbiamo registrato sono stati anche i danni in preraccolta come percentuale di frutti danneggiati che mostravano segni appunto di danno da punture di etterotteri, come vedete già nel 2014 c'erano dei casi di aziende, ad esempio questo bio con un 80% di danno, già nel 2014-2015 veramente quasi tutte le aziende avevano già dei danni superiori al 40% con punte di perdita totale del raccolto fino al 90-96%, situazione disastrosa, non riporto qui il 2016, 2016 leggermente meno danni, comunque la potete vedere nel poster. Quindi questo cosa dimostra che, come tra l'altro abbiamo già sentito stamattina, è fitofago chiave dei frutteti presente su tutto l'arco del periodo culturale e provoca gravi danni. Presso le giornate fitopatologiche trovate questi poster dove in particolare vediamo qua questa indagine dai collaboratori del consorzio fitosanitario di Modena dimostra come ci sia una predilezione per alcune essenze presenti nelle siepi soprattutto quelle che producono frutti, bacche e semi, acheni, samare e robe di questo tipo. Poi ci sono questi altri poster, questo riguarda in particolare soprattutto il discorso dello svernamento. Del tutto interessante è anche questo contributo da parte dei colleghi del Friuli che fanno vedere l'andamento, l'avanzata della cimice nella loro regione in termini sia appunto di espansione ma poi in termini anche proprio di rilievo sulle diverse colture ed allora è stata trovata sia sui fruttiferi ma anche in particolare su soia e mais anche. E queste le notizie che comparivano lo scorso autunno quando qualcuno di voi magari l'ha visto girava su internet questo filmato veramente drammatico di queste milionate di cimici su questi edifici una cosa che pure i miei colleghi americani hanno detto incredibile guardate cosa accade in Italia ma del resto cosa avete visto? Avete visto che il Friuli rimane proprio la zona di più elevata idoneità climatica per questo insetto. Mi dispiace per i colleghi friulani ma purtroppo così vanno le cose ma non ci fermiamo ai fruttiferi, non ci fermiamo a soia, mais, sappiate che è frittofago chiave anche del nocciolo questi dati che trovate in queste pubblicazioni, 2016 danni in Georgia per 60 milioni di dollari sul Mar Nero, sapete che Mar Nero quella zona lì, Georgia, Abcazia, Turchia c'è la più grande produzione di nocciole mondiale e quindi chi usa le nocciole è seriamente preoccupato la stessa Ferrero mi ha poi comunicato che nel 2017 i danni al nocciolo in Piemonte totali 90% del raccolto è andato distrutto appunto nel 2017 rispetto a cifre molto inferiori appunto all'anno precedente vite fondamentalmente dalle ricerche sia negli Stati Uniti ma anche l'indagine qua trovate il poster appunto ma anche da noi nel Modenese sembra che la presenza e i danni sulla coltura in centemi di produzione non siano significativi rispetto appunto a quello che accade per altre colture la preoccupazione per quanto riguarda il vino, la vinificazione è stata indagata da questi colleghi americani i quali inizialmente hanno intanto identificato qual è la molecola responsabile della caratteristica la puzza di cimice e questo trans due decenale ebbene cosa hanno fatto? il primo studio che hanno fatto hanno messo artificialmente dentro al vino dosi diverse di questa sostanza e hanno poi fatto provare alla gente sentire se piaceva o meno il vino in quel modo bene il risultato di quello studio è che la gente si suddivide in chi gli piace tutto sommato e in chi invece gli fa assolutamente disgusto guarda caso quella aroma lì è lo stesso che trovate nel cilantro, chi di voi lo conosce e quindi dipende ma cosa accade se mettiamo cimici appunto dentro quando si fa il vino? è quello che hanno fatto gli americani in questo studio qua diversi livelli di cimici per grappolo si è visto che mettendo tre cimici per grappolo ci sono delle conseguenze sul vino ma solo sul vino rosso Pinot Noir hanno visto loro, sul bianco no e dicono che questo sia dovuto alla modalità appunto di vinificazione che è diversa non sono un ecologo, non entro nel merito ma fatto sta che gli americani hanno trovato questo cimici però vive diversa cosa le indagini che hanno fatto i colleghi su Lambrusco sembra che non ci siano delle grandi differenze ma tenete conto che anche in quel caso erano tra cimici grappolo ma erano morte e quindi bisogna vedere appunto cosa accade su Lambrusco se si mettono cimici vive gli studi sulla biologia portati avanti dalla mia ormai ha preso il dottorato l'Elena Costi sappiate che noi ogni anno dal 2014 raccogliamo nel periodo tonnale un bel tot di cimici il più possibile le teniamo in queste cassettine di legno che rimangono fuori con dentro del cartone rimangono fuori, ci sono fessure così loro percepiscono il fotoperiodo restano fuori, solo riparate da pioggia e sole diretto e le seguiamo, seguiamo tutto quello che succede quindi quelle che escono fuori le marchiamo, le mettiamo in zone dove si possono alimentare ad libitum quelle che sopravvivono poi rimangono lì e seguiamo anche la biologia giorno per giorno e da questo studio cosa abbiamo visto? questi sono i risultati per quanto riguarda tre anni vedete dal 2015 al 2017 le uscite di svernamento ci siamo resi conto ma del resto è normale che sia così che sulla base dell'andamento climatico appunto dipendono anche la ritmicità e come avvengono le uscite sicuramente quello che abbiamo notato è che il picco di uscite dallo svernamento sia quando le temperature eccedono stabilmente i 13 gradi centigradi e questo per quanto riguarda i parametri biologici l'andamento delle ovide posizione vi ho anticipato, da noi ci sono due generazioni la generazione svernante che grossomodo inizia a riprodursi a partire da maggio di solito è metà maggio e la generazione estiva, le figlie delle svernanti che grossomodo iniziano a riprodursi verso luglio più o meno e anche lì l'andamento dipende dalle condizioni climatiche e appunto questo che è quello che ho cercato di evidenziare in questi grafici il 2015 fu l'anno perfetto dal punto di vista climatico per le cimici asiatiche guardate questa enorme sovrapposizione tra le due generazioni nell'ovide posizione delle due generazioni cosa che poi si tradusse in campo in quei danni che avete visto nelle nostre aziende fu veramente un'annata perfetta per loro e dopo fra un po' vedete anche i numeri proprio mentre nel 2016 ci fu un ritardo nell'inizio dell'ovide posizione che si è mantenuto via via anche successivamente quindi praticamente non sovrapposizione delle due generazioni nel 2017 una parziale sovrapposizione c'è stata questa è la figura del ciclo sulla base dei tre anni di studio questa figura la trovate anche su questo articolo dell'informatore agrario quello dove viene presentato il PSR così potete vedere ed avere un'idea di quello che accade Modena e questi sono i parametri biologici per numeri vi faccio notare come se volete avere una compendio sulla biologia questo è il lavoro appunto uscito sempre sul famoso numero speciale di Journal of Pest Science quindi 2015 trovate tutti i dati già tabulati e già pubblicati per quanto riguarda le annate successive vi faccio solo notare come incredibilmente guardate un po' 2015 le svernate potevano fare fino a 300 uova femmina e la generazione estiva fino a 214 guardate un pochino i numeri per il 2016 cioè numeri neanche comparabili e anche 2017 ma quello che vi faccio notare in particolare per 2017 è la mortalità molto dipendente ovviamente dal clima in particolare 2016 verosimilmente fu troppo fresco forse o troppa escursione termica ma quello che è veramente interessante 2017 2017 abbiamo avuto queste grandi ondate di caldo con temperature fino a 40 gradi da noi che hanno ucciso letteralmente gli stadi giovanili e quindi ovviamente è determinata una riduzione della popolazione cosa che si è poi vista in campo in Emilia Romagna in 2017 non che sia scomparsa ma i problemi sono stati inferiori diciamo rispetto agli anni scorsi mentre in Nord Italia e in Friuli in particolare assolutamente non era così ma il clima è diverso questi dati cosa ci servono? intanto sappiate che in Emilia Romagna grazie a quello che noi facciamo i tecnici nostri sono regolarmente consapevoli di quello che accade perché settimanalmente noi mandiamo al consorzio fitosanitario e al servizio i dati sulle uscite i dati sulla riproduzione delle diverse generazioni quindi c'è una informazione che circola sempre e poi ovviamente raccogliere queste serie storiche di dati serve ovviamente per elaborare dei modelli appunto che si spera potranno aiutarci nella gestione per ora in quanto di modellistica c'è veramente poco e non sono comunque dei modelli sono degli studi ma non sono dei veri modelli previsionali veniamo agli aspetti pratici il monitoraggio viene fatto con queste esche basate su feromoni di aggregazione questo è il lavoro dove è stato identificato dai colleghi americani il feromone di aggregazione che si chiama Murgantiolo e questo qui appunto è il lavoro che vi invito anche questo ad avere è una review sulla ecologia chimica di questa cimice uscita sempre nel famoso numero speciale e cosa abbiamo fatto? e questi sono i lavori che trovate qui come poster cosa è stato fatto? sono state fatte delle prove dove sono stati messi a confronto sia i diversi tipologie di esche feromonali che i diversi tipologie di trappole in sintesi cosa è saltato fuori? che diciamo così l'esca migliore sono quelle Rescue e 3SE non ci sono differenze significative tra le due in generale quello che è da far notare è che la Rescue, quella che si mette sugli alberi ricordatevi bene ed è una cosa che hanno visto anche gli americani funziona, funziona benissimo ma a patto di metterla bene va collocata bene a contatto con le alette a contatto diretto con i rami degli alberi non lasciata penzolare così non funzionerà e anche l'altro studio metteva a confronto diversi tipi di trappole 3SE dove si è visto che la sticky che è semplicemente un pannello collato funzionava meglio rispetto ai due modelli di double funnel comunque lo vedete come poster abbiamo fatto questo studio coordinato dallo USDA coinvolgendo tutti i paesi europei dove rappresenta appunto la cimice asiatica usando feromoni e trappole 3SE per vedere che cosa? per vedere se nei diversi paesi la risposta a questi stimoli feromonali era simile considerando anche i diversi eplotipi quindi qua vi ritrovate appunto la biodiversità di cui vi ho accennato prima ma la cosa simpatica cos'è emerso? è emerso che l'attrazione per le esche feromonali è indipendente dall'aplotipo almeno questa è una buona notizia possiamo usare queste esche praticamente ovunque perché funzionano tutto sommato ok? e l'altra cosa è che ricordatevi sempre che l'esca che si trova in commercio sono due componenti uno è il feromone della cimice il murgantiolo e l'altro è l'MDT che è un feromone di un'altra specie di cimice che però messi insieme ha un effetto sinergico quindi quando trovate appunto i feromoncini sappiate che sono le due e devono essere usati tutti e due il problema però dei feromoni di aggregazione hanno un messaggio biologico diverso rispetto a un feromone sessuale che molti di voi sono abituati a usare per monitoraggio di altre specie l'aggregazione vuol dire venite qui vicino non venite addosso il messaggio sessuale è ben diverso da quello dell'aggregazione sappiamo che il feromone di aggregazione è effetto su entrambi i sessi e anche sulle forme giovanili ma non vuol dire appunto venimi addosso quindi le conseguenze pratiche quali sono e chiunque abbia fatto monitoraggio con queste schelosa le conseguenze sono che non tutte le cimici entrano nelle trappole che anzi le cimici si radunano nel prossimità delle trappole e ovviamente mangiano e quindi incrementano appunto i danni sui frutti quindi dove si deve andare questa è la direzione che abbiamo preso insieme ai colleghi della fondazione di San Michele Nadige e al Lib di Lubiana studiare come comunicano queste cimici abbiamo quindi individuato che anche queste cimici comunicano come fanno molti eterotteri tramite vibrazioni del substrato questo appunto è il lavoro che è uscito dove c'è appunto l'identificazione proprio della sequenza del corteggiamento e in particolare abbiamo visto che questo segnale qui che non vi faccio sentire perché sennò perdiamo tempo ma insomma questo segnale qui anche se viene riprodotto in playback con quel famoso aggegino il mini shaker è funzionale e i maschi vengono attratti appunto in diversi contesti questo è l'altro lavoro sempre su quel benetto numero speciale che dimostra come questo segnale è sempre funzionale quindi siamo andati avanti stiamo andando avanti questo è il primo modello di prototipo realizzato in collaborazione con la CVC Bioguard i primi risultati sono incoraggianti tenete conto che insomma c'erano vari problemi anche tecnici ma ci stiamo lavorando e speriamo appunto di giungere ad un dispositivo appunto multimodale comunque la gestione di questo insetto con gli insetticidi non è sicuramente funzionale perché deve tenere conto del comportamento di questo insetto della polifagia di questo insetto e quindi la razionalizzazione attraverso ad esempio appunto concentrare i trattamenti nella zona di bordura e trovate questo poster l'utilizzo delle reti e trovate quest'altro poster su utilizzo delle reti il trap crop quindi l'uso di appunto colture per intrappolare le cimici non è molto funzionale dalle prove degli americani questa è una strategia su quale c'è sperimentazione è solo sperimentazione in Italia non le trovate le reti impregnate di insetticida studi di laboratorio dimostrano che potrebbero essere funzionali il difficile come applicarli in campo finisco dicendo che le potenzialità degli antagonisti naturali sono scarsissime da quello che abbiamo visto in campo studi di laboratorio dicono che c'è qualche altro parassitoide come l'encirtus telenomicida che potrebbe fare qualcosa ma ci vuole molta sperimentazione abbiamo visto che ci sono formiche che sono in grado di pregare efficacemente tutti gli stadi giovanili non le uova ma il trisolcus iaponicus che è quello che è più diciamo così in grado di controllare la cimice non è selettivo e quindi anche il potenziale import di questo qua è una cosa un pochino problematica negli Stati Uniti sappiato le concludo così negli Stati Uniti hanno trovato delle popolazioni naturali di trisolcus iaponicus che non sono state rilasciate dai laboratori dei colleghi perché geneticamente hanno un profilo molto diverso rispetto a quello che era in laboratorio sono quindi arrivate appunto ovvero similmente casualmente sembra che la loro efficacia sia ancora molto limitata ma insomma è un passo in avanti e con questo vi ringrazio